Lecce, ultima chiamata per la A, diretta in campo in questo momento contro la Regina. Virtus Francavilla, Taurino in pole per la panchina, può tornare anche Perez. Taranto, la terza, pensa a cambiare la formazione per battere il portice ed intanto in casa Brindisi dopo due tamponi dubbi, si accelera per effettuare altri test a tutto il gruppo squadra. Buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione sportiva di Antenna Sud 85 che apriamo ovviamente collegandoci in diretta con lo stadio Via del Mare dove è terminato da poco il primo tempo tra Lecce e Regina. Per sapere di più andiamo a parlare con Matteo Bottazzo. Buon pomeriggio Matteo. Buon pomeriggio Cristina, risultato fermo sul 2-2 qui a Via del Mare. Gara ricca, ricchissima di emozioni a partire dall'inizio della gara in cui c'è stato lo striscione fuori a Via del Mare. Il campo poi però la musica è cambiata, Eder ha portato in battaggio alla regina in pochi minuti, appena 4. Stepischi ha riportato in vantaggio Giorgosti, prima col pareggio su Assis di Mancoso e poi realizzando il più facile dei tapin dopo un'azione tambureggiante di coda. Nel finale poi Belloma ha sfruttato un leggero errore di Lucioni e ha portato in parità la partita. 2-2 a Via del Mare, occhi puntati anche sulla Regchi di Salerno dove sta vincendo per 1-0 la formazione Granata, invece 0-0 a Cosenza tra Monza e Cosenza. Il risultato è questo che fa bene ai Gianno Rossi, non va bene invece quello ancora della Regchi. Servirebbe un pareggio ma soprattutto prima di tutto servirebbe un successo qui a Via del Mare. Assolutamente sì, grazie Matteo Bottazzo. Ovviamente nella prossima edizione del nostro TG regionale, highlights e commenti di questo match. Andiamo avanti perché il Lecce ancora crede nella promozione diretta, nella massima serie. Parliamo di basket di Lega e poi torneremo a parlare di calcio. Brindisi nuovamente in campo proprio questa sera per il recupero esterno con Trento. Ma torniamo intanto a parlare del match con Sassari per ascoltare l'opinione del vice allenatore della Dinamo, Edoardo Casalone, lo ascoltiamo appunto e poi torniamo a parlare di calcio. Coach, una vittoria molto importante nel Parlamento a Sulla contro un'Epicasa che veniva da un periodo molto difficile per le ragioni sanitarie che ben conosciamo. E per voi due punti molto significativi per la classifica in questa fase conclusiva del campionato? Una squadra messa non benissimo, sono d'accordo perché chiaramente quando uno sta fermo due settimane, però mi sembra di aver visto una buona squadra, nel senso che sta già recuperando, per cui è una cosa molto positiva per voi. Quindi faccio un grande in bocca al lupo a tutti i giocatori, a quelli che purtroppo non si sono ancora negativizzati e a Coach Frank di Tucci, perché sappiamo che cosa vuol dire rientrare da una situazione del genere e non è facile. E non è facile, noi abbiamo fatto in tre diversi spot durante l'anno e non è una cosa semplice. Per quanto ci riguarda abbiamo fatto secondo me una grandissima partita, i ragazzi hanno fatto una partita strapitosa, hai detto bene giocare qua non è una cosa semplice, giocare contro Brindisi non è una cosa semplice, perché Brindisi è una squadra che ha dimostrato di sapere giocare benissimo, arrivava da un momento di forma clamoroso, chiaramente poi quando si sta fermi quello un pochettino cambia, ma abbiamo visto che da come sono partiti avevano assolutamente tutte le carte in tavola nel tuo quarto per fare una partita clamorosa. Poi sicuramente loro sono venuti a mancare di energie, secondo me noi in difesa abbiamo fatto dei passi in avanti pazzeschi durante la partita e quindi siamo molto contenti di quello. Abbiamo controllato i rimbalzi, chiaramente aiutati anche dal fatto che non ci fosse cruballi, ma è un qualcosa su cui abbiamo messo molto l'attenzione, per cui sono stati molto bravi, ripeto secondo me la chiave è stata la nostra difesa sul perimetro e il controllo dei rimbalzi, secondo me le ragazze hanno fatto una partita molto 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 di alto livello. In casa Virtus Francavilla si comincia a pianificare il futuro, un futuro che potrebbe portare sulla panchina della scuola della città degli imperiali Roberto Taurino. Un'età media superiore a quella dell'ultima stagione, un bel po' di profili di esperienza e spessore per potenziare la rosa e aiutare i giovani a crescere più velocemente. La Virtus Francavilla ha già le idee chiare in vista dell'annata 2021-2022, che come ha ripetuto più volte nelle ultime settimane, il presidente Magri dovrà essere di meno sofferenza rispetto a quella appena conclusa e a breve il numero 1 Biancazzurro dovrebbe anche sciogliere le riserve per quanto riguarda la situazione panchina tra i nomi valutati. C'è anche quello di Roberto Taurino, condottiero del Bitonto, che la scorsa estate ha conquistato sul campo la promozione in Serie C, prima dei cinque punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale, che hanno permesso il salto di categoria al Foggia. Nel corso di questa stagione, Taurino è stato per un breve periodo anche alla Viterbese, lì da dove è passato anche il suo maestro Antonio Calabro, di cui ha fatto il vice nel campionato 2016-17 a Francavilla, poi Nardò l'anno successivo, quindi Bitonto e appunto Viterbo, dal novembre al 5 aprile scorso. Una media di 1,26 punti a partita in 23 giornate di campionato. In questo momento la corsa sembra ristretta a due, con il Leccese a questo punto in leggero vantaggio rispetto alla permanenza di Colombo, una volata vicina al traguardo, una volta annunciato poi il nome dell'allenatore con cui aprire un nuovo ciclo, si penserà al mercato riflettendo insieme anche sui tasselli da aggiungere. Il Taranto, il Taranto punta a vincere per consolidare il primato, la terza valuta diverse variazioni nella formazione antiporti. Ci sentiamo, Vito Di Novi. Consueto test di metà settimana contro la formazione Juniors per il Taranto, che tornerà ad allenarsi nel pomeriggio per l'ultima seduta pre-rifinitura, in vista del match interno di domenica contro il Portici, che al pari di tutta la Serie D avrà inizio alle ore 16. La terza studia le possibili mosse, che dipenderanno anche dalle condizioni fisiche di diversi interpreti, alcuni dei quali apparsi a corto di ossigeno nel corso delle ultime due uscite. Al centro della difesa, Gonzales potrebbe far rifiatare Gianmarco Rizzo. In mediana reclama spazio il ristabilito di E.B. Con Marzili in diffida e perciò a rischio squalifica, non è da escludere che possa essere il centrocampista evoriano ad affiancare Tissone, al netto, tra l'altro, dell'assenza di Mastro Monaco per squalifica, anche lì classe 2000. Rebus in avanti, tutto dipenderà dalle condizioni di Corrado, Alfageme e Corbino, tutti sostituiti ad Andrea per diversi acciacchi. Potrebbe rivedersi dall'inizio Guaita, che necessita di minutaggio per tornare al top della forma. Le prossime ore saranno decisive per sciogliere gli ultimi dubbi. Al di là degli interpreti, al Taranto serve vincere per consolidare la vetta e per tenere a debita distanza le inseguitrici. In Casa Brindisi, ovviamente, si pensa già, anzi, non già, si pensa a rifinire quello che è l'11 anti-Cerignola. Infatti i biancoazzurri domenica prossima ospiteranno al Fanuzzi proprio il Cerignola. Nei test eseguiti nella giornata di ieri, come da regolamento prima del match, due test appunto sono risultati con un risultato non chiaro, insomma, da rifare in certi e dubbi. Ovviamente si parla di due componenti del gruppo squadra. Nelle prossime ore, infatti, tutto il gruppo squadra del Brindisi dovrà effettuare nuovamente i test per essere ovviamente certi sia dell'esito di quelli già eseguiti e dubbi sia delle condizioni di tutto il gruppo biancoazzurro in vista proprio del match con il Cerignola. Match con il Cerignola che dovrà sicuramente vedere un unici differente da parte di Cazzarò e si potrebbe rivedere anche dal primo minuto l'inserimento di Forbes. È ancora out però in difesa Capitan Sicignano. Potrebbe anche essere disponibile comunque partire dalla panchina e invece un altro infortunato quale Bottari. Quindi tra qualche ora intanto sapremo la cosa più importante, cioè l'esito dei nuovi tamponi a cui si dovrebbe sottoporre nelle prossime ore tutto il gruppo squadra del Brindisi. Questa era l'ultima notizia del nostro TG, quindi a questo punto non possiamo che rimandarvi l'edizione regionale di questa sera quando insieme vedremo le immagini che ci arriveranno da Via del Mare con i commenti e ovviamente anche il post partita. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento.